Numeri preoccupanti emergono dal rapporto 2020 della CGL che fa uscire uno spaccato fatto di impoverimento delle famiglie e delle giovani generazioni. Pensionati sempre più poveri, le donne ancora di più e mancato accesso al reddito da lavoro per la popolazione attiva. Gli occupati hanno un reddito basso e gli disoccupati vivono per lo più grazie agli strumenti di sostegno al reddito. Oggi i licenziamenti sono bloccati ma dopo che succederà? A lanciare l'allarme ancora una volta il segretario generale della CGL provinciale Francesco Marrelli. La pandemia ha generato conseguenze pesantissime sul nostro territorio colpendo prevalentemente giovani donne e anziani. Tra altro categorie già fragili persistenti alla crisi sanitaria. Basti pensare che il differenziale salariale tra uomini e donne sulle retribuzioni è di oltre il 35 per cento che ha una ricaduta anche sul sistema delle pensioni. Cioè tra una pensione di vecchiaia di una donna rispetto a quello di un uomo c'è una riduzione del 34 per cento. È chiaro che queste sono le categorie maggiormente colpite a questa crisi. La crisi era già in atto, la pandemia ha peggiorato tutto. La provincia dell'Aquila poi ha l'importo medio mensile di pensione di vecchiaia più basso tra le province abruzzesi e il tasso di disoccupazione nel 2019 per l'Aquila del 9,6 per cento. Servono strumenti nuovi, implementazione di quelli già esistenti per il segretario Marrelli. Basti pensare che sulla provincia dell'Aquila il 5,44 per cento della popolazione vive grazie al reddito di cittadinanza che è diventato ad oggi a tutti gli effetti uno strumento di contrasto della povertà. Quello che occorre è innanzitutto sostenere i redditi, perciò reintrodurre il reddito di emergenza dove è possibile, implementare quelle che sono poi le coperture sul reddito di cittadinanza e costruire un sistema di ammortizzatori sociali che sia universale ed inclusivo perché quello che si è dimostrato in questi mesi di pandemia è che molti soggetti, molti lavoratori sono stati esclusi appunto dagli ammortizzatori sociali. Quello che occorre è sostenere il reddito.